Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di VIP Review. Oggi vorrei presentarvi lo zainetto dei serpeverde, un prodotto ufficiale Warner Bros. gentilmente offerto da un posto magico, la Bottega Incantata. Guardiamolo nel dettaglio. Penso sia doveroso farvi vedere come è arrivato lo zainetto con un pacco, a dire poco magico, bellissimo. All'interno, oltre a una lettera che scalda il cuore, ho trovato anche due pacchetti con degli omaggi assolutamente graditissimi. Come vedete lo zaino che è di un bel verdone serpeverde è fatto in ecopelle deluxe molto resistente. Dietro abbiamo l'etichetta, che ci dimostra essere quindi un prodotto sotto licenza Warner Bros. Nella parte frontale, oltre il verde, abbiamo anche il simbolo appunto della casata. Più in basso, nella tasca con tonalità scozzese, abbiamo al centro lo stemma dei serpeverde, completamente in metallo. L'apertura dello zaino viene tramite una zip a cui è attaccata un serpente in metallo, mentre dietro abbiamo le nostre cinghie, chiaramente regolabili. Noi sono. Noi. Noi. Noi sono. Noi. Noi sono. Noi. non so se si vede ma è bello spazioso troviamo due taschine nella parte interna e anche un ulteriore scompartimento chiudibile con la zip la tasca esterna invece si apre e si chiude tramite un bottone magnetico lo zaino misura all'incirca 27 cm di altezza per 23-24 cm di larghezza la bottega incantata è un piccolo angolo di Hogwarts dove qualsiasi fanatico della saga di Harry Potter può sentirsi a casa non troverete solamente lo zaino del serpe verde ma è ricchissimo di prodotti a tema per cui vi consiglio subito di andare a darci un'occhiata io vi saluto, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un like o un commento e a seguirmi nel mio canale ciao 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 ciao